Gli spaghetti al caviale per Lusi, i voli di Stato per Apicello, le camice di Scilipoti, i corsivi di La Vitola sull'Avanti, i corsivi di Renzo Bossi sulla Padania. Con le tue tasse hai già permesso ai partiti tutto questo, ma noi siamo senza vergogna e ti chiediamo anche il 5 per 1000. 5 per 1000 ai partiti. Non si interrompe un'emozione.